E ora voltiamo pagina, parliamo di un tema che riguarda anche l'Adriatico, l'estrazione del gas crea un problema di subsidenza, ovvero l'abbassamento del livello poi del mare. Siamo andati sul delta del Po andando a seguire una visita ufficiale della Commissione Agricoltura del Senato. Tutto nel servizio. Le posso assicurare che fino alla fine degli anni 70 questa era un'isola dove si faceva agricoltura. Stop ai pozzi di gas in Adriatico, troppi pericoli. E' questo l'appello dei consorzi di bonifica del Polesine, Delta del Po e Adice Po, nonché di Ambiveneto che hanno accompagnato senatori ed amministratori alla foce del fiume più lungo d'Italia con l'obiettivo di illustrare il difficile lavoro quotidiano necessario per mantenere asciutte e in sicurezza le campagne e i centri abitati di un territorio a forte rischio idraulico. Polesine, per tenere asciutto questo territorio, che è sotto, come le dicevo, sotto il livello del mare, sotto il livello dei fiumi, ogni goccia d'acqua che cade è necessario pomparla. E ogni anno, quest'anno, a bilancio 2022, spenderemo circa 7 milioni di euro di sola energia elettrica per espellere l'acqua. Quello che vediamo qua, in piccolo, potrebbe essere quello che succede anche in altre isole che compongono il Delta se si dovesse continuare ad estrarre metano da questo territorio. Questi non sono modelli matematici, non è una fantasia, questo è quello che è successo a seguito della subsidenza. Tra gli esempi lampanti delle conseguenze della subsidenza, l'isola di batteria, che a causa delle estrazioni del gas metano degli anni 40 e 50, ha subito abbassamenti diffusi e non omogenei anche di 4 metri. Le immagini si commentano da solo, quello che può provocare l'estrazione del metano in un territorio così debole, fragile e anche bellissimo dal punto di vista ambientale. Oggi sì, inevitabilmente lo sentiamo ogni giorno, il problema dell'energia è un problema grave, un problema incombente. 60 anni fa avevano pensato di risolverlo estrando il metano da questo territorio e abbiamo visto gli effetti. Le case sono scese di quasi 4 metri. Oggi si pensa di riestrare il metano in questi territori, io credo che vada valutato, valutato attentamente. Oggi è necessario rifare quegli studi che si sono fermati dal 2008 per capire come avanza questo fenomeno. Sulla base di questi studi poi si possono prendere anche delle decisioni. Le estrazioni di metano in Adriatico e quelle che avvengono da tempo nella vicina Croazia sono un problema per tutti, per il Polesine, per il Veneto, per l'Italia ma anche per l'intera Europa. Un'operazione che è necessario valutare attentamente, vista la fragilità del territorio e la vicinanza con la città di Venezia. Una visita decisamente importante per far toccare con mano i decisori politici quanto è difficile, ma altrettanto quanto è importante gestire questi territori con la consapevolezza che viviamo in un territorio fragile, ma soprattutto difficile per mantenere un equilibrio tra terra e acqua. Penso che questo generi la consapevolezza che ci vuole prudenza quando si vanno a decidere certi interventi che non vorremmo lasciare come è successo in questi ultimi 60-70 anni, un problema molto grosso ai nostri generazioni future.